Allora, vi avevo promesso che saremmo andati a portare a pubblicare la live reaction, vi porto i due pezzettini della mia live reaction ai gol di Iling e Vlaovic domani nelle pagelle perché è successo qualcosa di molto, molto grave. Avevo dedicato tanto tempo nel video post partita a parlare di quanto accaduto di brutto allo stadio di Bergamo nei confronti di Dujan Vlaovic e mai mi sarei aspettato di sentire delle parole simili da parte dell'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. Mai, parole da condannare assolutamente. Ora, le andiamo ad ascoltare, andiamo a commentarle, cerchiamo di fare il punto della situazione, ma prima di tutto voglio dire una roba che non ho detto nel video precedente perché Vlaovic poi è stato ammonito, è stato ammonito dal direttore di gara. Perché? Perché ha esultato in maniera polemica, è stato appunto ammonito per questa cosa qui, perché secondo il direttore di gara Vlaovic è andato a beccare i tifosi dell'Atalanta, che facevano parte della curva dell'Atalanta, che aveva rivolto proprio nei confronti di Vlaovic insulti razzisti. È stato ammonito. L'ammunizione di Vlaovic è sacrosanta se, secondo l'arbitro, il giocatore ha esagerato nell'andare a punzecchiare i tifosi avversari. È sacrosanta. Perché l'attuale regolamento sportivo dice questo, che se il giocatore che ha esultato viene evidenziato dall'arbitro, viene valutato dall'arbitro come un eccesso di esultanza o di mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi avversari, è giusto ammonire, perché l'attuale regolamento parla di questo. Benissimo. È giusto questo regolamento? Dato che c'è stata una causa scatenante? Per me no, però ad oggi c'è questo e quindi va seguito questo. Se cambierà poi in futuro, come mi auguro che avvenga, sarà un altro discorso. Però c'è stato un precedente, eh? Lo sappiamo. Lo sappiamo perché l'abbiamo vissuto noi. Al contrario, però. E cioè stiamo parlando ovviamente dell'episodio di Lukaku. Quindi io a questo punto, dato che c'è stato un precedente, mi aspetto che da parte del presidente Gravina venga concessa la grazia anche a Dujan Vlaovic. Cioè che questa munizione venga rimossa, perché l'altra volta era stata rimossa per dare un segnale nella lotta al razzismo. Benissimo. Allora per lo stesso principio bisogna fare la stessa cosa. Giovanni Albanese ha twittato e ha detto che la FIGC ha già chiamato la Juventus per esprimere solidarietà nei confronti di quello che è accaduto a Vlaovic in attesa di provvedimenti. E questo già è qualcosa di molto, molto positivo e significa che ci sarà un vero e proprio poi, si creerà un caso mediatico su questa cosa. Ma io che ho la fortuna di avere un canale seguito da gran parte di tifosi in Italia e non solo della Juventus, per fortuna di un po' di tutte le tifoserie, voglio ascoltare insieme a voi le parole di Gasperini ad Azzon. Le ha dette anche a Sky, ha detto le stesse cose ad Azzon forse anche più grave perché seppur ha alterato pensando di essere nel giusto, c'è stata una sorta di dibatti e ribatti con i giornalisti di Azzon, quindi adesso ce ne andiamo ad ascoltare. Sapete bene, non ve le mostro per discorsi legati al copyright, però potete ascoltare tranquillamente. Vi chiedo una cosa, condividete questo video, diffondete questo video, passatelo ad amici, conoscenti, parenti, perché questo è un video che ha un messaggio che va fuori dal calcio, non parla di Juve, non parla di Atalanta, non parla di Inter, non parla di Milan, non parla di Lazio, non parla di Roma. Ma questo è un video che passa un messaggio che deve diventare standard. Bisogna combattere quello che è accaduto a Bergamo e soprattutto le prese di posizioni come quella di Gasperini, che deve, per quanto mi riguarda, soltanto vergognarsi, vergognarsi. Un uomo di 65 anni che fa delle dichiarazioni del genere andrebbe semplicemente rieducato. Ascoltiamolo. Ha voglia di commentare quello che è successo nel finale con i cori per Dusan Vlaovic? No, ho già commentato prima, dicendo che noi abbiamo in campo giocatori come Pasalic, abbiamo Jim City, abbiamo avuto Ilicic, abbiamo avuto Sutalo, abbiamo avuto tanti giocatori. e quindi io non confondo sempre che tutto sia razzismo. Razzismo è la prima cosa da combattere, è vero. Però a volte sono anche cose individuali, perché se no il razzismo riguarda tutti quanti. Invece quando sono cose individuali è come quando uno viene insultato nello stadio, quando uno viene pesantemente insultato nello stadio, è una cosa più di maleducazione, se volete, che di razzismo. Ma il razzismo io lo interpreto come una cosa molto seria. Quello per lei non è razzismo, quei cori lì? E sono cose più rivolte probabilmente, se fosse razzismo sarebbe insultato anche Ilic, Cic e Pasalic non potrebbero mettere piede, no? Perché il razzismo va a colpire tutta quanta l'ednia, no? Molto spesso negli stadi si assiste a degli insulti, rivolte allenatori, giocatori, che possono essere di varia natura. Almeno io tendo a pensarla così, perché la razzismo è una cosa molto grave, molto peggiore, che coinvolge molte più persone, non magari un singolo episodio per quanto di maleducazione, per quanto mi dispiace. E' chiaro che, non so se questa sia la sede giusta per stabilire il concetto di razzismo, però quei cori, insomma, l'abbiamo sentito tutti, non colpiscono la singola persona, ma insomma sono cori di matrice etnica. E ripeto Gasperini, non so se questa sia la sede giusta per stabilire questo. No, quella che si è fuori strada completamente, perché ti ripeto che c'era Pasalic in campo, abbiamo avuto Illic in Genovaia, quindi ti sbagli, ma ti sbagli pesantemente a dire una cosa del genere. No, è pesante, io non so se siamo da quei cori... Purtroppo, maleducatamente, è rivolto ad un singolo giocatore. Come spesso si dice del figlio di puttana con dei cori ad un altro giocatore, o degli allenatori, si dà del pezzo di merda, si dà di queste cose qua. O si fanno dei bu, no? A squadre che hanno magari in campo anche i giocatori di colore. Allora, io sono d'accordo che il razzismo è la cosa peggiore che va da combattuta. Però non va confusa. Altrimenti, se continuiamo a fare tutto un erbo, un faccio, si fa passare a tutti quanti i parazzisti. Registriamo la sua posizione. E questo non mi sembra caso. Registriamo la sua posizione e comunque in ogni caso ci dissociamo da qualsiasi forma di insulto. Anche io mi dissocio da qualsiasi forma di maleducazione. Meno male. Che sia ben chiaro, di non capovolgere le sue tre. No, non capovolgiamole, no. Da qualsiasi forma di maleducazione, di insulto. Le partite di calcio, di fare per la propria squadra gli insulti, si farebbe molto meno ad averli. Anche perché i cori dei tifosi sono così belli. Sono così gioiosi, sono così parte dello spettacolo dello stadio che quando ci sono dei cori di insulti. Però personalmente credo che il razzismo sia una cosa molto, molto, molto più seria e che va combattuta. Grazie Gasperini, alla prossima. Il razzismo è una cosa seria e va combattuto. E sai come si fa Gasperini a combattere il razzismo? Ne hai un'idea? Per combattere il razzismo si potrebbe iniziare dicendo Mi vergogno, mi vergogno di quello che ho sentito allo stadio oggi. Chi ha dato dello zeta a Vlaovic è un coglione che merita di rimanere fuori dallo stadio. Che si merita la DASPO perché quello non è l'ambiente. Quello non è l'ambiente per una persona del genere. Per un ignorante, per un bifolco, un coglione. Sceglietela voi, sceglietela voi, che sono state esattamente le parole che ho pronunciato e che per fortuna ho sentito ripetute da quasi tutti nei confronti di quei 200 deficienti che giustamente si sono beccati la DASPO dopo quello che hanno detto e fatto a Lukaku in occasione di Juventus Inter di Coppa Italia. Questo bisognerebbe dire, per iniziare, per combattere il razzismo, che è una cosa molto seria e bisogna combatterlo secondo il signor Gasperini, bisognerebbe iniziare dicendo queste cose. Iniziando dicendo queste cose. Che chi dice una roba del genere è un coglione. E non paragonare, non paragonare un'offesa rassista a un'offesa come figlio di puttana o pezzo di merda. Perché dicendo una roba del genere si dimostra semplicemente di non aver capito un cazzo di quello che è il razzismo. Di come vada combattuto. Anzi, dicendo queste parole, lui dice non voglio che vengano poi ribaltate. No, no. Sono chiarissime. Non c'è niente di ribaltato. Perché in questo caso c'è la condanna, quindi o condanni il razzismo o sei complice. Ci sono due strade. Se non condanni il razzismo sei complice. Scegli da che parte stare. A quanto pare, senza bisogno di ribaltare niente, il signor Gasperini ha fatto intendere che dire sei uno zeta a Vlaovic non è un'offesa rassista. È un'offesa alla persona. Quindi così la butto lì, così come a Lukaku se gli si dice sei un n, non è un'offesa rassista. È un'offesa alla persona, come se ne fanno tante nei confronti allenatori. È un po' come dirgli figlio di puttana, è un po' come dirgli pezzo di merda. Sei un n, sei uno zeta. Magari a una persona omosessuale dirgli sei un f è la stessa identica cosa, no? Non stiamo mica offendendo, no, stiamo offendendo come si offendano le persone. Ma stiamo scherzando o stiamo dicendo lo vero? Io non ci credo, io dovevo tirarmi dei pizzicotti, eh. Dovevo tirarmi dei pizzicotti. Perché nel 2023 sentire un allenatore di calcio di serie A dire una roba del genere, invece che condannare, è da pelle d'oca. Perché poi possiamo fare tutte le iniziative che vogliamo, leggere i messaggi in sovrimpressione, tutto quello che vogliamo, tutto. Ma se non si combattono questi pensieri qui e se non si commentano in maniera negativa e non ci si dissocia da queste parole qui, non stiamo combattendo il razzismo. Lo stiamo fomentando. Stiamo continuando a buttarlo avanti. E io qua faccio un grande appello alla società Atalanta Bergamasca Calcio. Perché due cose adesso devono fare. Dissociarsi dalle parole dell'allenatore e contribuire con le forze dell'ordine e collaborare con le forze dell'ordine per individuare e allontanare queste persone di stadi. Ci sono stati, che ne so, butto un numero, perché sicuramente non sono stati tutti i tifosi dell'Atalanta. Perché questo è il messaggio sbagliato. Questo non deve passare. Non è che tutti i tifosi dell'Atalanta sono razzisti. Ma quei due, tre, cinque, dieci, cento, mille, duemila, tremila che sono, non importa quanti siano, l'importante è che questi non entrino poi allo stadio. Si perde dal punto di vista economico, certo, perché perdi degli introiti, perdi degli ingressi, perdi degli abbonati. Però bisogna scegliere. Lo vogliamo combattere il razzismo? Sì, oppure no. Siamo contro il razzismo? Sì, o siamo complici del razzismo? Quindi l'Atalanta adesso deve fare questo. Non ha tante altre strade. E poi, pensare che un ragazzo di 22, di 23 anni, come Dujan Blauvic, perché è un classe 2000, se si è ritrovato offeso da, non lo so, centinaia, migliaia di persone per minuti e minuti, offeso in maniera rassista, e non è, come dirgli figlio di puttana, un pezzo di merda, e bisognerebbe condannarlo invece che, ma sì, dai, succede. Addirittura poi l'allenatore della squadra avversaria va a giustificare tutto questo. E lo fa fare in una maniera terrificante. È come se io mi fossi presentato ai microfoni a registrare il post partita di Juve-Inter quando sono andato a toccare il tema legato a quello che è accaduto a Lukaku dicendo, ma voilà, questi tifosi della Juve non hanno fatto mica niente di male, non sono mica razzisti perché anche noi abbiamo Pogba che è di colore, quindi sarebbero anche contro Pogba. No, quelli sono dei coglioni, sono dei deficienti, non devono stare allo stadio, la Juventus ha collaborato per allontanare lo stadio e giustamente questo è lo stadio, non ci metteranno più piede. Giustamente, come giusto che sia. Quindi ribadisco, vogliamo condannare? Vogliamo lottare? O vogliamo semplicemente sgonfiare perché ci conviene così? O è ancora il discorso del razzismo a seconda della maglia che si indossa? Quindi a Vlaovic si possono dire perché c'è la bianconera, dovesse succedere a Pasalice in un altro stadio la prossima volta, allora lì non va più bene perché Pasalice veste quella dell'Atalanta, quindi stiamo facendo una lotta al razzismo o stiamo facendo una crociata di difesa dei nostri colori? Bisogna veramente condannarle queste parole di Gasperini, condannarle forte per quello che vi chiedo massima diffusione di questo video e massimo supporto a questa causa, che come dice Gasperini è un problema che va combattuto, sì, ma con le armi giuste.